Giova Miranda sembra ormai essere il nuovo predestinato ad essere il vice di Theo Hernandez al Milan Sarà quindi un nuovo giocatore del Milan già a gennaio Nell'operazione pallano 2 milioni e si dovrebbe fare Dunque, Giova Miranda è un nuovo giocatore del Milan Andiamo a parlare di questo video Prima di tutto like, commenti, condivisione, campanellina Cosa importantissima che voi ci mettete poco per farle Quindi fatele che vi costano poco Con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare Rivedete il giornale sul canale a 360 gradi Quindi è una realtà da fare Se volete, dite i blau, sta qui sotto nei commenti Allora Iniziamo un po' ad analizzare le qualità del giocatore Allora, Giova Miranda che ha 23 anni Sembra ormai essere il nuovo giocatore del Milan Già a gennaio, pallano 2-3 milioni dell'operazione Quindi al momento dovrebbe essere fatta E' considerato un giocatore costante Un giocatore molto costante Che anche con abbia immagini di miglioramento Soprattutto per l'età perché è molto giovane E lo suo ruolo naturale nasce quindi di terzino-sinistra E quindi nella squadra di Pioli Nella squadra di Pioli Ricoprirà il ruolo di vice Teo Hernandez Però potrebbe rappresentare anche molto più Di una semplice alternativa Perché comunque ha grandissima esperienza Ha frequentato il settore giovanile Del Barcellona Ha fatto anche un esordio In Champions con il Barcellona Detonare nella sfida Con il Tottenham parigiato 1-1 E quindi la sua prima vera stagione da professionista Al Barca si chiuderà con 4 presenze Complessive Un campionato Ed una Supercoppa di Spagna vinte Poi ritorna al Betis Nell'estate del 2019 Nell'estate del Anzi no Nell'estate del 2019 Il Barcellona c'è già mirato In prestito pegliale allo Schalke 04 In Germania però va male E un mese dopo Viene girato subito al Betis Squadra che lo preleva con la forma del prestito Con diritto di riscatto Che poi appunto verrà esercitato Dopo due buonissime andate Miranda inizia ad imporsi A partire dalla stagione 2022-2023 Nelle quale totalizza 31 presenze complessive Condite da 3 gol Tutti messi a segno in campionato Nella stagione precedente 2021-2022 Vince con il Betis La Coppa del Re Trasformati in ricordicissimo Contro il Valencia Ricordicissimo contro il Valencia Le sue caratteristiche tecniche Sono che è un esterno di tutta fascia Quindi appunto Ricoprirà il ruolo di vice Tornada e San Milan E' un giocatore che fa della corsa e della spinta Due tra le sue migliori armi E' molto veloce Forte palla al piede E anche abile nel sfornare grosso per gli attaccanti E niente Dicendovi la mia il Milan fa un bel colpo Fa un bel colpo Perché comunque come letto da questa descrizione Che vi ho riassunto in pochi semplici minuti Lui ricoprirà il ruolo di vice Lui ricoprirà il ruolo di vice E' vicino ad arrivare al Milan già a gennaio e non in estate Perché nell'operazione ballano 2-3 milioni di euro Quindi Questione di giorni e dovrebbe essere fatta Dovrebbe essere fatta Per me è un bel colpo E' un bel colpo Perché comunque se ci pensi Un giocatore come Miranda Che ti viene a ricoprire Chi accetta il ruolo di vice Tornandez E' tanta roba E' tanta roba In Spagna ha fatto molto bene Col Barsa Anche ha fatto Discretamente bene E io come voto Gli do un 7 e mezzo Un 7 e mezzo Perché come vice Tornandez Secondo me E' veramente tanta tanta roba Comunque ragazzi Questo è il mio commento Su Joe Miranda Che sembra ormai essere Un nuovo giocatore del Milan Se volete ditemi la vostra Qui sotto nei commenti C'è il like Commenti di decisione Condivisione E campanellina Cosa importantissima Che voi ci mettete poco per farle Quindi fatele Che vi costano poco E con 5 semplici clic E 5 semplici cose da fare Rimedite a giornata A 360 gradi Quindi che aspettate Fatelo Milanista e non Ditevi la vostra Su Joe Miranda al Milan Noi ci vediamo stasera Con il pre partita Di Juve Napoli Ciao